Musica Oggi il 25 aprile si festeggia il 69esimo anniversario della liberazione a Torino cerimonia al cimitero monumentale con l'omaggio alle lapidi dei caduti ieri sera la fiaccolata per le vie del centro, per noi c'era Simonetta Rò Momenti di preghiera e ricordo nei viali del monumentale dove il corteo del 25 aprile ha toccato le lapidi che ricordano i partigiani morti nella guerra di liberazione ma anche i civili, i militari, le vittime della deportazione ultima stazione di questo viaggio nella memoria, il campo ebraico un ricordo ancora vivo per chi, anche se bambino, c'era nel 45 come Tommaso Stringa suo fratello Pensiero, partigiano ventenne, fu ucciso in un agguato e poi è andato a recuperarlo il mio padre Buonanima che può capire, voleva recuperarlo con una bicicletta poi grazie ad un panettiere del luogo è andato a un triciclo, se l'è portato a casa molto Alla manifestazione il sindaco di Torino, Piero Fassino per la provincia Bisacca, per la regione Michele Coppola e poi i rappresentanti dell'AMPI e delle tante associazioni degli ex resistenti a loro nome, intervenuto ieri sera sul palco di Piazza Castello dopo la fiaccolata Ugo Sacerdote, da chi ha vissuto quei giorni lontani un pensiero per l'oggi Purtroppo molti parlano di libertà, anche dei dittatori nel passato la libertà deve essere completa, soprattutto per garantire i diritti dei cittadini A Torino il cuore della giornata è al Museo della Resistenza in Corso Valdocco visite guidate e per i giovani la Compagnia di San Paolo offre 50 abbonamenti ai musei e dalle 15.30 a concerto e letture in collaborazione con il Jazz Festival che alle 18 e alle 21 porta in Piazza Castello la musica americana vietata dal fascismo Alcuni attivisti Notav Terzo Valico hanno abbattuto oggi alcune recinzioni delle aree dove sorgeranno due cantieri della futura linea ferroviaria Pozzolo-Formigaro e ad Arquata-Scrivia in provincia di Alessandria Lo ha reso noto lo stesso movimento Notav Terzo Valico precisando che in questo modo e testuale hanno voluto onorare la giornata del 25 aprile Grazie